Sarà il 19 giugno la prima edizione dell'Open Day dedicato alla prevenzione al femminile promosso dalla Fondazione Onda che vede oltre 160 ospedali italiani Bollino Rosa offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione in alcune aree specialistiche. Obiettivo dell'iniziativa quello di promuovere nella popolazione femminile dalla pubertà alla menopausa una corretta prevenzione primaria e secondaria. In provincia di Arezzo ad aderire saranno l'ospedale San Donato di Arezzo e l'ospedale Santa Maria alla Gruccia del Valdarno con visite mediche gratuite. L'ospedale di Arezzo è dedicato a senologia, diabetologia, ginecologia e urologia. Sarà necessaria la prenotazione mandando un'email a urologiaambulatorio.r-uslsudest.toscana.it indicando nell'email il tipo di consulto richiesto. Per quello che riguarda l'ospedale di Santa Maria della Gruccia le visite sono già andate esaurite.